Lunedì 4 giugno Buongiorno, ben trovati al primo appuntamento della settimana con Mattino 6 la nostra rassegna stampa per la lettura dei quotidiani oggi in edicola primo giorno della settimana, ovviamente grande spazio sui giornali allo sport sport di cui parleremo in maniera dettagliata nella seconda parte ma andiamo per ordine, apriamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi iniziamo con il centro, l'edizione di Pescara, la notizia e l'intossicazione alimentare di diversi bambini di alcune scuole della città un centinaio i casi, vedete il titolo a tutta pagina il sindaco Alessandrini sospende le menze a scuola tanti ricoveri, anche alcune insegnanti sono state coinvolte da questa intossicazione al lavoro anche in AS Abruzzo di Pescara per chiarire l'accaduto e soprattutto le cause di questa intossicazione fortunatamente non si registrano casi particolarmente gravi andiamo a centro pagina, a guanciare le altre stelle alla festa per la piccola Noemi Sciarretta a Pescara le dedicano uno spettacolo all'auditorium vedete la foto con in primo piano il papà di Noemi vediamo anche le altre notizie che arrivano da Pescara e provincia concorso per vigili urbani nel capoluogo adriatico in mille per trenta assunzioni poi Montesilvano, in Goia una conchiglia salvata bimba di dieci mesi e poi ancora Pescara, Riviera invasa dalle auto torna la sosta selvaggia e poi il calcio in primo piano perché si guarda alla prossima stagione in Casa Bianca Azzurra il Pescara sarà da rifondare, da ricostruire tantissime le partenze, molti gli arrivi e dall'Inter tornerà quasi certamente Palazzi vediamo anche la prima pagina del centro edizione di L'Aquila Avezzano Sulmona tavolini scontro vigili comune siamo all'Aquila il sindaco e l'assessore danno lo stop ai controlli fuori dai locali e poi la chiesa aquilana in festa il neocardinale Giuseppe Petrocchi entrerà proprio a Collemaggio da cardinale il primo luglio vediamo anche le notizie dalla provincia un sogno infranto, addio alla piccola Iaia simbolo della solidarietà e a Sulmona si spegne Facchini il paladino dei malati Edoardo Facchini vediamo anche più in basso tornando all'Aquila mini esodo e lunghe code al traforo a causa dei lavori e poi il calcio aquilano in questo caso perché Ius l'imprenditore romano Gianluca Ius e l'Aquila Calcio ad un passo dall'intesa per la cessione delle quote della società Rosso Blu all'imprenditore Capitolino siamo alla prima pagina del centro edizione di Teramo si parla in questo caso ovviamente di amministrative si andrà al voto domenica prossima 10 giugno e si sente già al ballottaggio il candidato del centro-destra ostenta sicurezza ma c'è tensione e vedete poi a centro pagina la sanità che funziona al Mazzini nasce il gruppo per la cura del cancro al seno e vedete in primo piano lo riconoscerete sicuramente a proposito di politica anche se in questo caso la politica non c'entra in primo piano c'è anche l'ex sindaco di Teramo Brucchi che fa parte di questo pool dell'ospedale Mazzini per la cura del cancro al seno ancora Teramo la CNA chiede impegni agli aspiranti sindaco oggi ci sarà l'incontro e poi a Basciano la tragedia di due giorni fa ragazza precipita un intero paese in lutto Giulia Nuova ladri in casa cassaforte tagliata con la mola e poi vediamo anche lo sport in primo piano si parla di basket di serie a due maschile il rosetto si lega alla stella azzurra Roma ci sarà questa collaborazione tra le due società cestistiche siamo alla prima pagina di Chieti Lanciano Vasto del Centro grandi opere piano da 40 milioni Chieti i primi interventi già entro l'anno di Felice assessore dice città accogliente poi ritroviamo lo spettacolo la festa per il compleanno di Noemi Sciarretta e poi siamo a Lanciano asfalti non pagati la ditta fa causa al comune San Salvo i lavoratori cura Marghera per salvare la Pilkington e poi andiamo più in basso a Chieti l'infiorata trasforma il corso di Chieti in un giardino lo sport in questo caso per parlare di Vastese Chieti Vastese che punta su del Duca e Bellini Otero primo colpo della società Nero Verde vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero in primo piano ovviamente quello che è accaduto a Pescara nelle ultime ore salmonella menze chiuse salgono tanti casi di intossicazione alimentare tra alunni e insegnanti delle scuole la decisione del comune in attesa delle analisi e poi vedete anche sul messaggero la notizia che arriva da Roccaraso Iaia si è arresa la favola triste della bimba malata vedete poi di spalla si parla di bussi della rinascita del polo chimico l'industriale Alberto Filippi assicura entro Natale la prima pietra del nuovo stabilimento vediamo a centro pagina siamo a Chieti in questo caso addio allo storico campo di basket bando deserto l'impianto sarà smantellato Avezzano ciclista morto indagano i carabinieri della locale compagnia in alto si parla di sport il MotoGP Iannone Vale il duello ha infiammato il Mugello e poi il calcio a 5 Acqua e Sapone notte decisiva sulla strada dello Scudetto gara 3 questa sera al pala Giovanni Paolo II tra l'Acqua e Sapone e la Luparense 1 a 1 fino a questo momento il sconto delle due sfide giocate in Terra Veneta e poi il calcio di serie B Pescara Pettinari Cocco e Fornasier in partenza per il Pescara si prevede una vera e propria rivoluzione sul mercato ci saranno tante partenze e tanti arrivi e tra l'altro sono da ufficializzare ancora le cariche per quanto riguarda lo staff tecnico dell'allenatore Giuseppe Pillon del direttore dell'area tecnica Giorgio Repetto e probabilmente anche di Luca Leone che dovrebbe restare anche per la prossima stagione in Riva L'Adriatico ma passiamo all'edicola nazionale partiamo dal Corriere della Sera Migranti le accuse di Salvini non siamo il campo profughi d'Europa dice il neoministro degli interni Merkel dice Roma lasciata sola e poi a centro pagina la storia le paure l'operazione la gioia il ritratto di famiglia quattro mesi dopo le gemelline Elisabetta separata da Evelina le gemelline nate due volte c'è stata questa straordinaria operazione che ha commosso tutta Italia e poi il Papa Papa Francesco a Ostia basta omertà e prepotenze ha detto il pontefice andiamo a vedere Repubblica anche in questo caso si parla di politica in primo piano Migranti e Unione Europea Salvini scatenato Soros governo legato a Mosca e intanto in Tunisia c'è stata l'ennesima tragedia del mare annegati in 47 e poi vedete il Papa sfida i clan di Ostia basta prepotenze e omertà le parole del pontefice nel corso della visita ad Ostia siamo alla stampa idea giallo-verde gli esuberi siano a carico delle aziende il governo prepara un ritiro graduale intanto da Kabul il monito di Washington sarebbe un grave errore subito diverse spine per il governo e a proposito di spine per il governo nato poche ore fa bagnasco sui migranti saggezza e accoglienza il presidente dei vescovi europei basta proclami vediamo anche il sole 24 ore dual tax i conti delle famiglie con l'IRPEF in due aliquide possibili risparmi fino al 20% del reddito e poi vedete quest'altro titolo più in basso i muettasi vanno sempre al massimo entro il 18 giugno va sversato l'acconto dal sole 24 ore passiamo al fatto quotidiano vedete il titolo che riguarda la politica in alto ora la paura fa 90 la Merkel accusa l'Unione Europea e difende l'Italia la Merkel dice Roma lasciata sola dall'Europa Salvini no linea dura ma buonsenso vediamo anche il messaggero la prima pagina del messaggero nazionale migranti il piano Salvini Merkel Italia lasciata sola meno soldi all'accoglienza ma fondi ai paesi di provenienza per i rimpatri e poi riforma carceri in arrivo lo stop sarà il primo atto del governo giallo verde e poi parla Mario Balotelli questa sera c'è l'amichevole Italia-Olanda ma Balotelli parla da politico Italia sveglia di basta razzismo io capitano per tutti gli stranieri questa sera dovrebbe essere proprio Balotelli il giocatore in campo per l'Italia con la fascia da capitano non siamo l'università delle spie e dei 5 stelle questo è il titolo di apertura del tempo lo sfogo dell'ex DC Scotti presidente della Link Campus quante bugie anche sul ministro della difesa ora denuncio tutti e poi vedete a centro pagina che è finaccia aiutate Calenda vedete questa discussione a diciamo vis-à-vis tra l'ex ministro e il sindaco di Roma Raggi lasciamo il tempo passiamo al Libero quelli che odiano la Lega vedete il titolo di Libero tromboni all'assalto di Salvini partita l'operazione di demolizione del ministro dell'interno Panza lo prende in giro perché suda e non ride mai Saviano invita la disobbedienza i giornalisti dalla penna rossa evocano la rivoluzione scrive Libero e poi vedete a centro pagina darò l'autonomia Lombardia Veneto ed Emilia Erika Stefani ministro del carroccio agli affari regionali inizio subito non andrò in ferie dice il neo ministro il secolo XIX il quotidiano di Genova Salvini accelera sui rimpatri la Civesco Bagnasco basta proclami l'accoglienza è un valore il mattino di Napoli migranti il piano Salvini taglia l'accoglienza per finanziare intese con Niger e altri paesi africani porti chiusi alle ONG e poi qualcuno fermi i deficienti dei selfie vedete il caso a Pompei su una colonna e a Piacenza davanti a una donna ferita proprio nei pressi anzi sui binari di una stazione in questo caso della stazione probabilmente di Piacenza da come leggiamo in questo articolo lasciamo dunque i giornali nazionali tutti i titoli incentrati soprattutto sulla politica torniamo alla cronaca abruzzese siamo al centro pagina 2 guida per i contribuenti si avvicina alla denuncia dei redditi e vedete c'è questo articolo su come pagare di meno tra le spese detraibili o deducibili strumenti musicali affetti università la prima scadenza il 9 luglio si può risparmiare senza essere evasori e poi scuola deciso il nuovo calendario dopo le vacanze si riparti il 10 settembre i giorni di attività didattica saranno 208 e poi vedete la giornata la serata dedicata a Noemi Sciarretta una platea gremita per Noemi la Bruzza un cuore grande all'auditorium della Madonna del Rosario la festa dedicata alla bimba di Guardia Grele sul palco guanciale per Rotta Cavuti Valentina Olla e il papà della piccola che lotta contro la malattia siamo alle cronache dalle province a Pescara per l'emergenza che ha riguardato diversi bambini delle scuole cittadine salgono a 100 i bambini indossicati in fortemente il numero dei piccoli pazienti e qualche caso tra insegnanti accessi oltre che all'ospedale di Pescara anche a quello di Chieti in asse prelevano le pietanze al centro cottura all'ozoprofilattico esaminerà i campioni vediamo anche di leggere questi due sommari il sospetto dei medici e di tossinfezione alimentare il trattamento seguito è quello per la salmonella non si esclude un virus che ha gli stessi sintomi l'ASL pronta a ricorrere a spazi e personale in più per fronteggiare un eventuale picco di ricoveri oggi saranno resi noti i risultati delle analisi e al via i controlli in ambulatorio per alcuni dei bimbi finiti in pediatria è stato predisposto un servizio mirato l'ordinanza del sindaco dopo quanto accaduto il sindaco Marco Alessandrini sospende il servizio in tutte le menze il provvedimento è stato emanato a scopo cautelativo dopo i numerosi malori consumo di alimenti in classe ammesso se c'è il via libera dei dirigenti scolastici tra l'altro a proposito di scuole tra qualche giorno tra pochi giorni e tra l'altro le scuole chiuderanno per le vacanze estive siamo ancora a Pescara il concorso per vigili urbani mille per trenta posti le prime assunzioni per l'estate previsti contratti a tempo per quattro mesi gli esami si svolgeranno il 19 giugno al centro congressi di Montesilvano sosta selvaggia sulla riviera senza segnaletica spiagge piene auto e moto parcheggiate ovunque gli ambientalisti ai veicoli sulla strada parco e poi siamo alla festa della madonna dei sette dolori di Pescara il parroco il comune ci aiuti o nel 2019 niente festa proseguiamo siamo a Pescara anzi per meglio dire a Montesilvano bimba in goia una conchiglia salvata la piccola di dieci mesi presentava difficoltà respiratorie è stata soccorsa in spiaggia dai bagnini incidente nel pomeriggio di ieri alla pista da cross di Cugnoli motociclista ferito trasferito in ospedale con l'eli soccorso al Santa Annunziata di Chieti siamo a Francavilla servizi per anziani e bambini via i bandi il comune organizza un viaggio a Castrocaro il trasporto alle terme e il taxi sociale in basso ci spostiamo a Spoltore trasporto di Sabili le domande entro il 18 Francavilla cronaca attenta il suicidio donna fermata e salvata dalla polizia a Chieti ora per sempre sulle pagine del centro al via le grandi opere così cambiamo la città entro l'anno il collegamento con via Papa Giovanni e l'ex pescheria riqualificata l'assessore di Felice dice Chieti diventa più accogliente per i turisti e attenta all'ambiente in basso Marzoli riqualificate la piscina anziché svenderla dice il consigliere comunale del PD e poi un solo candidato a Bucchianico slitta l'elezione del nuovo Banderese proseguiamo siamo a San Salvo la Pilkington come Marghera così rilanciamo l'azienda il sindaco Magnacca usciamo dalla crisi facendo sistema con la fabbrica Veneta vasto pontile chiuso per lavori baglianti violano il cantiere e poi ancora San Salvo 110 mila euro per la strada Casello a 14 zona industriale Lanciano asfalti elettorali la ditta fa causa al comune mai pagati i lavori eseguiti nel 2006 dice l'impresa imballa una somma pari a 357 mila euro siamo all'Aquila tavolini all'aperto bufera sul comune l'assessore al commercio sui controlli fuga in avanti i vigili mi sentiranno il sindaco smentisco ha detto il primo cittadino dell'Aquila diffide agli essercenti e poi siamo nella parte bassa della pagina niente fondi festival Gran Sasso a rischio l'altra gara gli organizzatori arrunciano un rinvio causa incertezze dell'assessorato al turismo il cardinal Petrocchi siamo sempre all'Aquila il primo luglio atteso a Colle Maggio ieri la processione del Corpus Domini in centro storico tutto pronto per la festa del patrono San Massimo ancora all'Aquila lavori in autostrada lunghe code al traforo primo esodo estivo verso il mare segnato dalle polemiche gli automobilisti denunciano e dicono nessuna assistenza e lutto a Sulmona per la scomparsa di Edoardo Facchini il paladino dei malati ha guidato per un decennio il tribunale del malato il cordoglio della Puglielli esempio di amore per gli altri e siamo a Roccaraso il sogno infranto addio a Iaga simbolo della solidarietà la bimba aveva nove anni amava cantare l'Abruzzo si era mobilitato per sostenere le cure negli Stati Uniti vedete le foto anche la maglia regalata dal calciatore del Paris Saint Germain della nazionale italiana tra l'altro pescarese Marco Verratti e la benedizione via Skype di Papa Francesco l'incontro a dicembre del 2014 della mamma con il pontefice preceduto da una lettera del Papa ricca di affetto siamo a Teramo i comuni al voto il comune più importante per le amministrative del 10 giugno ovviamente quello di Teramo Morra Sicuro candidato del centro-destra con sei liste siamo già al ballottaggio al teatro comunale la convention dello schieramento di centro-destra ma ci sono anche delle spine perché nell'alleanza non sono tutte rose e fiori qualcuno tenta di avvelenare i pozzi in basso sul versante del centro-sinistra Piscina D'Alberto Gianguido D'Alberto uno dei candidati sindaci accusa la giunta Brucchi campana al centro per Teramo al leader del popolo della famiglia Adinolfi dice lasci in pace il vescovo e siamo a Basciano la ragazza morta in un incidente in montagna oggi sarà segnata l'autopsia lutto a Basciano i genitori attendono di poter fare i funerali alla figlia scivolata in fondo ad un burrone a fosso della cavata e voleva buttarsi nel vuoto da ponte San Francesco a Teramo salvato da due poliziotti a Giulianova furto in casa tagliata con una mola la cassaforte i ladri rubano gli ori nell'abitazione di un carabiniere in pensione e poi siamo alla sanità la buona sanità nasce il gruppo per la cura del cancro al seno all'ospedale Mazzini di Teramo team di specialisti che assistano la paziente fin dai primi mesi siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo attendere per parlare di sport lo faremo nella seconda parte ora andiamo a vedere invece le pagine interne dell'inserto abruzzo del messaggero Pescara incubo Salmonella menza sospesa nelle scuole comunali e poi la processione per la festa della Madonna dei Sette Dolori un fiume di folla dietro la Madonna e poi Montesilvano rischia di soffocare per una conchiglia bimba salvata e poi l'incidente che è accaduto a Cugnoli motociclista ferito sulla spista da Cross andiamo avanti pagina dell'Aquila su Tavolini e Deor scoppia la polemica il sindaco Biondi smentisce le diffide dei vigili urbani ai titolari delle attività e poi di fianco si parla di ricostruzione spero rimanga il sottosegretario alla ricostruzione lo dice la senatrice Stefania Pezzopane e poi la proposta della Giannangeli una casa di fuga per le donne vittime di violenza in basso si parla di cronaca giudiziaria Moria Anziano di Giambattista a giudizio e poi lo sport tutto pronto per il primo trofeo Foschi andiamo avanti Avezzano morte del ciclista il caso si riapre si cerca il padrone del bovino che provocò l'incidente esaminato capo per capo tutto il bestiamo della zona si configurano responsabilità precise in danno del proprietario dell'animale al setaccio i pascoli di Cappadocia e Castella Fiume anche sul messaggero ritroviamo la triste notizia della scomparsa di Aia la bimba di Roccaraso che aveva nove anni e per cui si erano mobilitati in tanti c'era stato anche un messaggio del pontefice l'incontro del papa con la mamma di Aia siamo ad Avezzano il delitto Massimiani due anni dopo il padre Armando chiede giustizia e a Sulmona lo abbiamo visto anche dal centro Tribunale dei diritti del malato è morto lo storico presidente Edoardo Facchini lasciamo questa pagina che riguarda la Marsica la Valle Peligna siamo sempre sulle pagine del messaggero ma alla pagina relativa a Chieti il bando va deserto addio al campo di basket della villa comunale poco appetibile la gestione a soli dieci anni per ragioni di sicurezza sarà smantellato la città perde un pezzo di storia sportiva teatro di tornei e sfide indimenticabili da Chieti a Lanciano la tassa di soggiorno allontanerà i turisti dopo le vetrine al buio prosegue la battaglia di albergatori e commercianti contro l'imposta nella parte bassa della pagina siamo invece a Vasto dove si parla di strade provinciali interventi dopo la protesta di alcuni sindaci del comprensorio e siamo a Teramo ovviamente in primo piano l'abbiamo detto prima le amministrative vi ricordo si voterà domenica prossima 10 giugno morre di Dalmazio gli ex alleati al veleno escluse possibilità di apparentamento campana critica ad inolfi sul vescovo Leuzzi d'Alberto punta sul censimento impianti sportivi e il caso piscina dunque si infiamma proprio nell'ultima settimana la la campagna elettorale siamo in Val Vibrata contro guerra Carletta da solo contro il quorum in basso al Badriatica svuotano i distributori sul lungomare malviventi scatenati a Giulianova vanno a sentire le bande e in casa entrano i ladri infine sfilata stupenda sul lungomare strage di auto si parla ancora in questo caso prima indirettamente del festival delle bande musicali sfilata stupenda e strage di auto il festival si è chiuso con successo rimosse 30 autovetture errori leggiamo qui dal messaggero del comune siamo arrivati anche in questo caso alle pagine di sport ma dobbiamo attendere per parlare di sport ma prima di fermarci per qualche attimo possiamo vedere almeno i titoli dei tre quotidiani sportivi nazionali poi parleremo di sport soprattutto in chiave locale partiamo dalla gazzetta dello sport missione rosso nera mister lì cerca amici caccia ad un socio per il Milan con l'Europa arriveranno tre big l'ingresso di un nuovo azionista e il sostegno delle banche per rifinanziare il debito e rassicurare l'UEFA perché il Milan lo abbiamo letto e visto nei giorni scorsi rischia di restare fuori dall'Europa League e intanto c'è il risicomercato Allegri Ancelotti Spalletti chi serve a chi ecco la lista dei rinforzi e poi c'è questa importante notizia tra lo sport e la solidarietà io Capitano Italia messaggio agli immigrati Ballotelli vuole la fascia da capitano nel test con l'Olanda si giocherà questa sera allo stadio di Torino in futuro più facile ha detto Ballotelli che giochi all'estero e l'Italia questa sera si presenta intanto con diverse novità l'ultimo titolo riguarda i playoff di Serie B che interessano indirettamente anche i tifosi del Pescara ieri le prime due gare Dominio Inzaghi Tris al Perugia Venezia che batte il Perugia 3 a 0 Cittadella avanti Bari pari e rabbia i pugliesi chiudono in 9 2 a 2 e come detto il Venezia ha piegato il Perugia per 3 a 0 dunque fuori dai playoff al primo turno Perugia e Bari vanno avanti Cittadella e Venezia lasciamo la gazzetta dello sport vediamo il Corriere dello Sport Sarri a casa è il caso del momento e forse anche dell'anno ha stabilito il record di punti il suo gioco ha strappato con sensi scrive il Corriere dello Sport a livello mondiale ma non ha vinto scaricato dal Napoli è stato vicino al Chelsea che punta su Blanc per adesso ha perso il calcio perché Sarri rischia di restare fermo in alto basta parla balo per Balotelli capitano orgoglio dei neri d'Italia stasera c'è Italia Olanda le 20.45 e poi in basso vedete il tennis cecchinato per sognare e poi il MotoGP Gran Ducati di Toscana Lorenzo batte Dovisioso delirio per Valentino Rossi sul podio e siamo a tutto sport Toro verissimo si fa in Italia la gente del brasiliano che piace anche la Lazio e Roma tratto da tempo con i Granata ma ora servono 10 milioni Allegri Zidane incrocio Juve e poi altre notizie che riguardano il calcio Cutrone sempre più Milan ha firmato il contratto il prolungamento fino al 2023 e questa sera esame Olanda per l'Italia Perine Belotti Azzurro Speranza vedete poi in basso i playoff di Serie B Venezia e Cittadella Veneto in semifinale perché le due formazioni venete hanno eliminato rispettivamente Perugia e Bari e dunque approdano al turno successivo dei playoff per la promozione in Serie A dell'ultima squadra cadetta dopo le prime due promozioni arrivate direttamente al termine della stagione regolare e dunque possiamo fermarci per qualche attimo tra poco torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6 di nuovo in studio seconda parte di Mattino 6 siamo alle pagine dello sport del centro la prima pagina parla è dedicata con il titolo di apertura al Pescara ci sarà un vero e proprio Repulisti in vista della prossima stagione difese attacco da rifare a centrocampo il nodo Brugman oggi duello Sebastiani Iannascoli presso il tribunale delle imprese dell'Aquila vediamo comunque qualche pagina di sport nazionale Lorenzo rende amare la festa Ducati addio dello spagnolo nel giorno della doppietta rossa al Mugello a fine gara scatta l'abbraccio con Valentino Rossi il dottore un risultato prezioso cruciale la Pol Mugello Dolce Amare invece per Iannone il pilota abruzzese il vastese della Suzuki si piazza quarto dopo un fantastico weekend dunque il pilota Iannone il vastese Iannone ha mancato davvero di un soffio il podio e poi calcio verso Russia 2018 un affare per Mediaset grazie alla raccolta pubblicitaria sta coprendo il costo dei diritti tv dal 14 giugno al 14 luglio ecco come seguire le gare ricordiamo che non ci sarà l'Italia ai mondiali di Russia Italia che invece questa sera giocherà una gara amichevole a Torino alle 20.45 con l'Olanda Mancini prova la sua terza Italia senza l'attaccante Balotelli io capitano segnale agli immigrati ma Balotelli dovrebbe partire dalla panchina e intanto nelle altre gare il Brasile ha battuto la Croazia si è rivisto anche Neymar e poi una bella notizia che riguarda il calcio a 5 salva la vita all'arbitro premiata la giocatrice di calcio a 5 femminile presto andiamo avanti andiamo avanti per parlare di calcio mercato calcio mercato come sempre si muovono le big in primo piano e ci sarebbe una veva e propria follia pronta per Marco Verratti la follia del Manchester United che ha offerto 115 milioni al Paris Saint Germain dunque Verratti potrebbe trasferirsi dalla Francia in Gran Bretagna per andare ad indossare la maglia della formazione del Manchester United in basso il tennis con Cecchinato che non si ferma sfiderà Djokovic il tennista palermitano batte Goffin e vola i quarti di finale sto vivendo un sogno davvero un grande risultato per Marco Cecchinato che sfiderà probabilmente il più forte tennista al mondo in questo momento dal tennis al calcio al Pescara le strategie dei Biancazzurri un Pescara da ricostruire in difesa e in attacco la retroguardia sarà stravolta tra le punte resteranno solo Bunino e Mancuso vedete in alto ne parlavamo prima Sebastiani e Annascoli oggi nuovo scontro all'Aquila e poi una notizia di mercato che riguarda l'Ascoli appena salvo l'Ascoli che sarà ceduto ad un gruppo svizzero dunque Bellini potrebbe andare via e poi vedete ne parlavamo prima le due gare di playoff del primo turno secco giocate ieri sera Cittadella Bari 2 a 2 con i supplementari che non sono riusciti a smuovere questo pareggio pareggio che è andato bene comunque al Cittadella che in virtù del miglior piazzamento della stagione regolare a proda alla semifinale playoff da dire che ci sono state grosse proteste per quanto riguarda il Bari Bari che ha chiuso la gara in nuove uomini per le espulsioni di Ghiomber ex Pescara e di Brienza è andata meglio in quanto a cartellini al Penso di Venezia Venezia che ha battuto il Perugia di Alessandro Nesta per 3 a 0 gara quasi mai in discussione dunque due venete che approdano alle semifinali andiamo a vedere cosa si dice in Casa Teramo il Teramo che sonda Colucci Zichella resta in corsa con D'Angelo tecnico pescarese che la scorsa stagione aveva allenato la Casertana non è stata trovata l'intesa economica fronte giocatori dubbi sulla permanenza di Caidi Amadio San Domenico si lavora per il riscatto il ritiro forse si svolgerà in città e poi il bomber di Pineto Rocco Costantino a suon di gol la sua scalata e il re di Bolzano dai dilettanti fino ai playoff per la Serie B con il Sud Tirole a proposito di playoff di Serie C tra l'altro vi ricordo che la finale di playoff di Serie C si giocherà allo stadio Adriatico di Pescara la San Benedettese va fuori battuta dal Cosenza davanti a Sarri che era presente in tribuna vanno avanti anche il Siena e il Catania e come detto il Sud Tirol dunque nelle semifinali si giocheranno Siena-Catania e Sud Tirol Cosenza gare con andata e ritorno e come vedete ne parlavamo qualche istante fa a proposito di Costantino 17 reti al debutto in Serie C con il Sud Tirol Costantino che spera di arrivare alla finale di Pescara perché sarà lo stadio Adriatico ad ospitare la gara che deciderà chi salirà in Serie B parliamo di Serie D in questo caso Real Giulianova spunta De Patre per la panchina De Patre ammette di essere stato contattato dai giallorossi e poi il mercato ancora va stese Napolano ad un passo del Duca e Bellini nel Mirino e poi l'Avezzano Avezzano Bianciardi e Sbardella verso il rinnovo il club marsicano lavora per allestire una squadra competitiva e tratta la conferma di Dos Santos intanto sono circa 200 gli abbonamenti venduti per l'operazione Serie C legata al ripescaggio in Lega Pro il presidente dell'Avezzano Gianni Paris a proposito di mercato dice cerchiamo due attaccanti e almeno due difensori dunque ad Avezzano si pensa al ripescaggio in Serie C all'Aquila tutto pronto per il passaggio di quote per la vendita della società Rosso Blu Ius L'Aquila vedete si chiude giovedì il preliminare per la cessione l'imprenditore romano vuole portare con sé un nuovo direttore generale pronto un CDA e Gulluni sarà il garante Pineto Brocco rilancia ripartiamo con ambizione della Quercia e Cercelluti ai saluti resterà il tecnico Amaulo dunque il Pineto dopo essere arrivato alla finalissima playoff quest'anno poi persa con il Matelica vuole confermarsi nella prossima stagione spostiamoci a Teramo San Nicolò Virtus Teramo fusione vicina in settimana i due club si incontreranno per chiudere la trattativa pronto il ritorno a San Nicolò del direttore sportivo Micciola e Francavilla sogna e punta Sansovini vedete il titolo in basso si complica il rinnovo di Palumbo l'ex bomber del Pescara 38enne potrebbe essere il grande colpo del presidente del Francavilla Gilberto Candeloro e siamo al mercato di eccellenza Chieti scatenato in arrivo Tero un piano per Ganci ex giocatore tra l'altro ricorderete del Pescara autore di quel gran gol da 35 metri che regalò al Pescara la promozione nella gara vinta con il Verona e l'Alli ex Chieti a questo punto passato a San Buceto scelto San Buceto il vice cammoniere dell'ultima stagione e il colpo della società Viola ora si punta a Criscolo e Borghetti e a Lanciano dopo la la vittoria del campionato si guarda al torneo di promozione e sono stati ritoccati i prezzi del degli abbonamenti Lanciano che ovviamente parteciperà al campionato di promozione con l'unico obiettivo di vincere il torneo e siamo ai playoff di prima categoria ieri si sono giocate delle gare importantissime in questo caso con l'Atria che segna al 98esimo e va in finale recupero lunghissimo la tessa protesta con l'arbitro 3 a 2 che però qualifica per la finale l'Atria il New Club elimina il San Benedetto Venere ora c'è il Sant'Anna e poi vedete in basso terza categoria ecco le quattro finaliste domenica si giocheranno Perano Vasto United e Atletico Cologna Colle Atterrato la Coppa Provincia è andata al Real Anthos dunque spazio in questo caso anche al calcio dilettantistico la Coppa Disciplina Spoltore e Virtus Teramo da applausi calcio e fair play ecco i buoni cattivi dell'ultima stagione in evidenza anche Genzano in prima categoria e Real Casale in seconda e siamo al calcio a cinque perché quella di questa sera è una serata davvero importante per lo sport abruzzese non solo per l'acqua e sapone acqua e sapone che scenderà in campo alle 20.45 al pala Giovanni Paolo II di Pescara per giocare gara tre della finalissima Scudetto previsti 1600 spettatori sugli spalti dell'impianto pescarese l'allenatore Tino Perez recupera Capitan Murillo gli allievi battono il San Paolo e vincono lo Scudetto Mammarella carica il portiere del Pescara calcio a cinque i tifosi l'arma in più il portiere dice il pala Giovanni Paolo II Piero sarà determinante per vincere il match che potrebbe portare la serie al 2 a 1 per i pescaresi poi si giocherà anche gara 4 a Pescara il 6 giugno dunque grande appuntamento questa sera a Pala Giovanni Paolo II per questa gara tra acqua e sapone e l'Uparense e in basso parliamo anche di calcio amatori del torneo delle professioni e movimento del vino allo stadio di Ratico la selezione degli avvocati va a K.O. in finale al terzo posto la squadra dei medici andiamo ancora avanti per parlare in questo caso di basket di basket di serie a 2 del Roseto ovviamente perché è stata siglata un'importante collaborazione tra gli Sharks Roseto e la storica formazione romana della Stella Azzurra insieme Roseto e Stella Azzurra per due stagioni la società romana darà i migliori giovani agli Sharks per completare il roster il suo capo allenatore d'Arcangeli potrebbe essere l'erede di Paolo Antonio sulla panchina del Roseto e intanto a proposito di basket di serie a 2 si stanno giocando le semifinali e si sono giocate le gare delle semifinali di playoff Trieste a proda in finale la fortitudo Bologna non molla e intanto i capitolini si sono giudicati lo scudetto Under 15 al Palamaggetti proprio i capitolini della Stella Azzurra società che ha siglato questa importante collaborazione con la formazione del Roseto e noi restiamo a parlare di basket Fontecchio l'obiettivo sono i mondiali 2019 a Cremona ho ritrovato il sorriso ora penso all'azzurro l'anno prossimo voglio giocare di più queste sono le dichiarazioni di Simone Fontecchio cestista pescarese che gioca in Serie A con Cremona il suo sogno ovviamente il suo pensiero è l'azzurro ovvero la nazionale italiana e siamo al basket di serie B grande spazio anche al basket oggi il Teramo è rimasto senza campo deserto il bando per il Palas Capriano appello di Ruscitti serve una soluzione entro il 30 giugno per la panchina bianco rossa il favorito è Valli ma spunta a Catalani il Giulianova prova a trattenere coach Tisato Campli Burini e in prova a Latina questo è il quadro per le tre formazioni terramane di basket e invece spostandoci più a sud praticamente quasi ufficiale la collaborazione tra l'amatori Pescara e la Weir Ortona con questa ipotesi di accordo che è stata già siglata nei giorni scorsi e poi la rivoluzione perché nasce in chiave regionale la serie C Gold ci saranno due abruzzesi che sono Ortona e Chieti Basto può essere ripescata cambia anche la serie C Silver avrà due gironi e in basso i playoff di serie D siamo sempre al basket l'Azzurra ci crede mercoledì ci sarà la rivincita a Lanciano possiamo battere il Chieti andiamo avanti per parlare di podismo in questo caso è di atletica partiamo con il podismo ad un imprendibile stacca tutti a Prati di Tivo seconda corsa del Gran Sasso l'Italo etiope ha inflitto al secondo classificato un distacco di oltre un minuto nella categoria femminile sul podio le abruzzesi Vannucci Aceto e Marcucci e vedete nella foto le tre vincitrici in campo femminile e più in basso Benjamin Adugna che si è aggiudicato questa seconda corsa del Gran Sasso e siamo all'atletica i campionati italiani under 20 Sabatini dominatrice nel mezzofondo veloce all'Abruzzo vanno otto medaglie tornando invece al podismo il pescarese Bisogno secondo Accepagatti l'atleta del passologico Doma Calcaterra e mette paura allo specialista Adugna Adugna sempre protagonista nelle gare nelle corse podistiche che si svolgono e si disputano nella nostra regione dall'atletica e dal podismo al ciclismo con le gare della domenica Accepagatti il romano Robertis freccia davanti a Greco e si aggiudica questo importante trofeo nella corsa del dottor Carlo il giovane corridore vibratiano si laurea campione regionali e invece Rocchetti si impone nella marathon degli stazzi a Scanno mountain bike nella prova classica successo di Folcarelli atmosfera mesta nel ricordo della vezzanese innocenzi e in basso da scienzo bike imprendibile a San Salvo giovanissimi nel trofeo Telemilano la squadra di Bellante precede la Sangro Bike e la pedale teate e siamo al rugby all'Aquila incertezza per il futuro della formazione equilana disco verde per l'unione silenzio sul futuro appunto come dicevo della società anche i giocatori aspettano notizie dai dirigenti va spedito invece il progetto tra Polisportiva Gran Sasso Fiamme e Nero Verde e poi il rugby giovanile San Buceto sul podio battuto soltanto dalla Polisportiva nel torneo Under 14 di San Giovanni Teatino andiamo in basso per parlare di calcio donne Real Bellante cade con la Lazio e dice addio alla Colpa Italia fase interregionale allievi e giovanissimi Curi Pescara un pareggio beffa e una vittoria quasi inutile poi il tennis con la Brianti che si aggiudica il secondo Open femminile di tennis città di Tortoreto abbiamo esaurito le pagine dello sport del centro possiamo andare a vedere quelle del messaggero ovviamente ripartiamo dal Pescara perché ovviamente siamo già in clima mercato anche se le trattative ufficialmente si apriranno il primo luglio Pettinari Cocco e Fornasier addio l'attaccante del Pescara è molto richiesto prolungamento per Crescensi dovrà decidere la società nel mirino Mascia del Montevideo e piace anche il giovane Setola del Palermo a proposito di mercato possiamo andare a leggere questo risvolto perché sono cambiate le date del mercato di calcio del calcio mercato che chiuderà in anticipo i battenti rispetto alle passate stagioni mercato come vi dicevo inizierà ufficialmente il primo luglio e chiuderà il 17 agosto e non più il primo settembre dunque i campionati inizieranno a mercato chiuso in Serie C però le società potranno continuare a tesserare invece calciatori fino al 25 agosto nuove date anche per definire i riscatti e i controriscatti da lunedì 18 giugno a mercoledì 20 giugno si potranno esercitare le opzioni da giovedì 21 a sabato 23 giugno le controopzioni la sessione invernale partirà del calciomercato partirà il 3 gennaio e chiuderà venerdì 18 gennaio tra l'altro non si chiuderà più alle 23 ma alle ore 20 e a proposito di Pescara di Campli gela il Delfino Favilli il giocatore assistito proprio da Di Campli ha detto il procuratore abruzzese lancianese andrà in Serie A probabile invece l'arrivo di Fabbro sempre della sua scuderia ottimi rapporti ha detto Di Campli con Sebastiani Lanciano ama l'Inter arriva Nicola Berti nell'occasione premiate le scolaresche per il ricordo di Weiz il grande allenatore nei campi di Sterminio e siamo al calcio a 5 acqua e sapone notte decisiva per lo scudetto questa sera ne abbiamo parlato prima in maniera diffusa alle 20.45 al pala Giovanni Paolo II di Pescara previsto il tutto esaurito per gara 3 della finalissima contro la Luparense Murillo sarà in campo anche se non al meglio della condizione leggiamo uno stralcio dell'articolo del messaggero per vedere qualcosa in più per sapere qualcosa in più su questa partita ricordiamo che questa è gara 3 si riparte dall'1 a 1 perché in Terra Veneta c'erano stati un successo per parte e questa sera si giocherà gara 3 tra due giorni gara 4 sempre al pala Giovanni Paolo II di Pescara la cornice stupefacente di un pala Giovanni Paolo II esaurito in ogni ordine di posti si prepara ad accogliere questa sera acqua e sapone e Luparense per il grande spettacolo della terza finale scudetto il fischio d'inizio è previsto alle 20.45 arbitreranno i signori Ruggero Chiariello di Barletta Rocco Morabito di Vercelli e Giovanni Zannola di Ostialido il crono sarà Andrea Campi di Ciampino per quanto riguarda le formazioni abbiamo detto che il coach spagnolo dell'acqua e sapone recupererà Capitan Murilo dopo lo spavento in gara 3 Luca in acciaccato stringerà i denti e scenderà in campo e poi ci sono lo leggiamo da quest'altra parte della pagina i due grandi ex Bertoni e Coco Wellington esperti in finali un anno fa campioni d'Italia con la Luparense nelle due gare in terra veneta è stato proprio Wellington a tenere a galla la formazione pescarese nei momenti più delicati segnando anche uno dei calci di rigore sotto la curva dei suoi vecchi tifosi e dunque grande attesa per questa partita questa sera alle 20.45 al pala Giovanni Paolo II noi invece lasciamo il calcio a 5 parliamo di calcio di serie D Avezzano Sirene Mercato per Deramo e Dos Santos il capocannoniere in vacanza in Brasile e a squadre di serie C che lo seguono per Deramo ci sono delle richieste e poi il Pineto Pineto in Coppa Italia non si può deludere la squadra messa nelle top va rinforzata anche se Ciarcelluti potrebbe passare ad altri club e noi parliamo anche della Vastese per il nuovo DS oggi tocca a Ruffini perché a meno di clamorosi colpi di scena Ferdinando Ruffini lo scorso anno a Francavilla ma in passato per tanti anni dirigente e direttore sportivo responsabile anche del settore giovanile del Pescara oggi potrebbe diventare ufficialmente un dirigente della formazione Vastese che lo ricordiamo ha tesserato come tecnico Ottavio Palladini e siamo ancora al calcio di serie D per parlare del Francavilla presi Caffiero dall'Aquila e Bosco potrebbe arrivare lo abbiamo visto prima anche Sansovini e poi l'Aquila Ius Accelera Battistini si accasa in serie D proposto un CD ha rinnovato il nodo dei pagamenti per quanto riguarda invece Battistini sta per chiudere ormai ex tecnico dell'Aquila un accordo con una formazione di serie D e noi parliamo del Teramo e a parlarne l'ex presidente Cerulli Relli che vedete nella foto più in alto con l'attuale patron Luciano Campitelli nei giorni scorsi c'è stata una riunione del Teramo delle vecchie gorie del Teramo 93-94 quell'annata straordinaria in cui i bianco-rossi tornarono in C2 e lo abbiamo anche ascoltato ai microfoni di Ania Cantagalli nel corso dei nostri TG l'ex presidente Cerulli parlando proprio del Teramo e della prossima stagione ha detto Teramo tieni Zichella ci ha messo la faccia nell'ultima giornata D'Angelo però attende di incontrarsi con la società Modica Archiviato ma abbiamo visto anche prima che ci sono altri nomi in ballo per il Teramo come quello di Colucci torniamo a parlare di Serie D San Nicolò con la fusione in panchina di Serafino questo il il dubbio che c'è in casa Teramana ma il scusate ormai il la fusione con la Virtus Teramo sembra davvero cosa fatta e di Serafino potrebbe essere il nuovo allenatore della formazione Bianca Azzurra vediamo in alto il calcio di eccellenza lasciando la Serie D chiede in arrivo lo spagnolo Rotero piace Micciche domani incontro con Ganci in cima alla lista resta anche Leccese e siamo alla pagina del basket Roseto e Stella Azzurra con grandi ambizioni siglato questo accordo tra le due società e poi il motociclismo MotoGP Annone controvale il duello in fiamma i 100.000 del Mugello sorpassi a ripetizione e alla fine il pilota Vastese arriva quarto e manca di un soffio il podio in basso il volley Sieco Service Ortona Alfieri e Sitti nel Mirino per quanto riguarda il tennis Labrianti vince il torneo di Tortoreto e siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi di lunedì 4 giugno con Mattino 6 che tornerà domani puntuale alle 8 io vi do appuntamento invece per quanto riguarda l'informazione della nostra rete come sempre alle 14 con la prima edizione del nostro telegiornale ma vi ricordo anche questa sera l'appuntamento in diretta come sempre dai nostri studi alle 21 con replay condotto da Enrico Rocchi per parlare in maniera diffusa del Pescara e del mercato della formazione Bianca Azzurra che anche il prossimo anno ovviamente parteciperà al campionato di Serie B è davvero tutto e ringrazio Silvia Gentile in regia vi auguro un buon proseguimento di giornata azzurra 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 azzurra